Dovunque tu vada ti sarà richiesto di fare cose che ritieni sbagliate. È una condizione costante della vita, quella di essere costretti a violare la propria identità. Una volta o l'altra ogni creatura vivente si trova costretta ad agire così. È l'ultima ombra, la risfatta della creazione. Questa è una maledizione che alimenta tutta la vita, dappertutto nell'universo. Noi non nasciamo, noi non cresciamo. Invece di morire per una malattia o di vecchiaia, noi ci esauriamo come le formiche. Ecco, come le formiche, ecco che cosa siamo. Grazie a tutti.